È stato presentato in comune a Pordenone il progetto Illumino Tecnico per la valorizzazione di Piazza della Motta, che potrà presto diventare il palco naturale per il mondo della cultura della città. Il progetto prevede l'installazione di alcuni totem metallici, materiale riflettente per nulla impattanti che conterranno dei proiettori. Da qui verranno riprodotte immagini ad altissima risoluzione, non togliendo nulla la bellezza artistica dei monumenti, ma conferendo loro maggiore bellezza e preziosità. Pur consapevoli delle resistenze che possono creare le innovazioni, siamo anche consapevoli che una città non si deve fermare, soprattutto se è Pordenone che ha grandissime potenzialità. Sappiamo anche che per rendere attrattive, belle, interessanti le nostre piazze dobbiamo appoggiarci agli sviluppi tecnologici. In questo caso abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della Regione che ci consentirà di mettere a terra un progetto innovativo basato sulla tridimensionalità, sulla cosiddetta realtà aumentata. Significa poter proiettare sulle pareti della piazza senza ovviamente ledere quella che è la storicità e la bellezza di quegli edifici, immagini, video tridimensionali, a colori, anche sulla pavimentazione. Significa poter trasmettere, per esempio, in diretta o in differita ciò che capita in altri luoghi, come i teatri o Pordenone Legge o altre iniziative. Significa poter fare un calendario, per esempio, settimanale, per cui il mercoledì, passando per Piazza della Motta, si vedranno delle ballerine virtuali o si vedranno delle opere teatrali o semplicemente delle opere d'arte che costituiamo nei nostri musei. Tutto questo insegna, ripeto, della massima definizione e della massima modernità. Questo potrà creare non solamente uno sviluppo culturale ulteriore e dare ulteriore visibilità alle attività culturali di Pordenone, ma anche creare un indotto turistico non indifferente con ricadute e benefici anche per le attività commerciali. Il progetto multimediale immersivo di Piazza della Motta finalizzato a valorizzare, a rendere più condiviso e più diffuso il messaggio della cultura creato dalle associazioni di Pordenone è stato condiviso proprio con le stesse. Abbiamo voluto sondare con tutte loro, dalle associazioni appunto che fanno attività culturali alle scuole di musica, piuttosto che il Teatro Verdi, Cinema Zero, insomma Pordenone Legge e tante associazioni di teatro musicali, ma anche l'università, il consorzio universitario che tratta la multimedialità come uno dei temi più interessanti per i nostri giovani. Devo dire che la risposta è stata molto positiva, le idee in campo sono tantissime, il progetto di Piazza della Motta multimediale è piaciuto e già si affacciano le prime idee per riempire di contenuti questo nuovo modo di esprimere e condividere la cultura.